Voto favorevole della Commissione Cultura della Camera dei Deputati alla proposta dell'Onorevole di Forza Italia Paolo Emilio Russo di candidare al Teatro Sociale di Como inaugurato nel 1813 a diventare Monumento Nazionale. Con il voto favorevole il Teatro viene riconosciuto come Monumento Nazionale, ha dichiarato Russo, capogruppo di Forza Italia, in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Lo storico presidio culturale della città e della provincia ottiene così un giusto riconoscimento per l'indubbio valore artistico, storico e architettonico e può ora costruire un futuro all'altezza del suo glorioso passato. L'averlo incluso nella dichiarazione di Monumento Nazionale di Teatri Italiani aggiunge Russo il risultato dell'attenzione dei deputati della maggioranza a partire dal Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone e della sensibilità e attenzione del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che molto si sta spendendo per far crescere e valorizzare la cultura italiana anche immaginandola come volano di crescita e di sviluppo. Nella nota del Forzista Comasco si precisa che il teatro sociale viene oggi considerato alla pari di grandi istituzioni culturali note in tutto il mondo, come per esempio il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro La Fenice di Venezia, il Petruzzelli di Bari e il Carlo Felice di Genova. Il riconoscimento non è soltanto simbolico, il teatro sociale potrà accedere ad una quota parte dei fondi, 10 milioni all'anno partire dal 2024, destinati ai teatri dichiarati monumenti nazionali per l'attribuzione di risorse umane, finanziarie e strumentali. La legge approvata in Commissione, conclude Russo, sarà discussa breve in aula alla Camera e poi andrà al Senato per il via libera definitivo. Il consigliere regionale Comasco di Forza Italia e membro dell'Assemblea Nazionale Unesco, Sergio Gaddi, coordinatore provinciale del partito, aggiunge, questa è la dimostrazione di come con il lavoro di squadra si ottengano risultati concreti. L'attenzione per la cultura del governo e dell'onorevole Paolo Emile Russo porta vantaggi per il nostro territorio, perché il riconoscimento, oltre all'importanza sul piano immateriale, si riflette anche nella possibilità di accedere ad importanti contributi economici. Ancora una volta, quindi, conclude, sottolineo l'importanza della cultura come motore di sviluppo del nostro territorio.